Devo farlo. Mi dispiace. Non vorrei, ma sono costretta. Perché? Sai che è sbagliato. Un assassino non sceglie tra giusto o sbagliato, solo tra vita e morte. Intelligente, ma dai, sul serio. Questo come risolve le cose? Si tratta di giustizia. Gli umani ci hanno attaccati senza motivo. E quindi per te è giusto fare lo stesso? Beh, no. Non è proprio lo stesso. Noi vi attacchiamo perché ci avete provocati. È un circolo vizioso. Tu mi fai del male e qualcuno si vendicherà sugli elfi. Non finirà mai. Callum. Psst, Callum. Psst, vattene via. Ho trovato una cosa. Stai parlando con quel dipinto? Cosa? Perché mai dovrei farlo? Questo non è un buon momento. Perché sei con una ragazza? Crossatina? Vattene ragazzino. Callum, ma che succede? Callum? Credevo fossi il principe Esran. Tu mi hai mentito. Sì, e ti sembra peggio di uccidere qualcuno? Hai conosciuto Esca? Di ciò al mio piccolo amico. Callum, seguimi. Ti mostro una cosa. Sì. Chiudi. Grazie a tutti.